Federalismo fiscale e cittadinanza costituzionale è stato il tema del seminario organizzato il 13 dicembre a Torino per gli studenti delle scuole superiori della provincia. Il seminario, promosso dal Comitato regionale Resistenza e Costituzione e dall'Associazione Colle dell'IS, si è aperto con gli interventi del Vice Presidente del Consiglio regionale, Roberto Placido, delegato al Comitato, e del Vice Presidente del Colle dell'IS, Francesco Casciano. Le relazioni hanno illustrato le esperienze di decentramento in Europa e il percorso compiuto in Italia per passare dal decentramento al federalismo fiscale. Il regionalismo italiano era sicuramente un punto di grande originalità dei costituenti. La riforma che stiamo vivendo nel decentramento italiano si inquadra perfettamente oggi in un trend più generale dell'Unione Europea in cui il federalismo e il decentramento appaiono in realtà come paradigmi del nuovo Stato democratico contemporaneo. Quindi paesi come la Francia, la Spagna e la Gran Bretagna sostanzialmente si dirigono verso il medesimo obiettivo. Il decentramento in Italia si è trovato con molta difficoltà. Stiamo arrivando adesso al federalismo fiscale e quindi è dando finalmente le risorse per poter gestire le competenze trasferite a comuni, regioni ed enti locali. Perché parlare con dei ragazzi? Perché è un processo che ci tocca tutti ed è un processo che è molto importante che seguiamo in maniera attenta e partecipata, in particolare i giovani che di questo processo saranno i protagonisti futuri.